No, una giornata di festa, alle giornate di festa si è sempre abituati. La giornata di festa perché due grandi e importanti organizzazioni, una di carattere sociale, il calcio, un altro, un operatore economico, con la CSA e i bianchi, hanno donato anche i presidenti di gesto bene di diagnostica e di cura per il consultorio e per l'ospedale. È un momento di festa perché la sanità è fatta di solidarietà e in questo modo vedo sia la modalità migliore come si testimonia.